Salve a tutti, eccoci qua con un altro video sempre sulla subordinazione perché con un video solo non ci si calava. Prendiamo in considerazione queste due frasi. Avendo finito il pane, abbiamo mangiato i glissimi. L'altro periodo è quando abbiamo finito il pane, abbiamo mangiato i glissimi. Qual è la differenza fra queste due frasi complesse? Direi prima di tutto di analizzarle velocemente. Abbiamo un periodo di qua e un periodo di qua, due periodi. Ognuno ha due predicati. Nel primo periodo abbiamo avendo finito, nel secondo abbiamo mangiato e nel secondo periodo abbiamo finito e abbiamo mangiato. Non vi sfuggirà il fatto che la seconda proposizione in entrambi i periodi è la stessa. Abbiamo mangiato i glissimi e abbiamo mangiato i glissimi. Perché? Perché è la stessa e perché vedete che entrambi sono delle pirra. Cioè abbiamo mangiato i glissimi, possono stare da soli. Quindi cosa cambia fra le due frasi? Cambia la prima proposizione. Avendo finito il pane, abbiamo mangiato i glissimi. Quando abbiamo finito il pane, abbiamo mangiato i glissimi. Il significato è lo stesso. Cambia la frase. Ora, vediamo il primo periodo. Abbiamo mangiato i glissimi avendo finito il pane. In questo caso è una subordinata. Perché? Dipende dalla prima. Le domande possono essere due tipi. Perché abbiamo mangiato i glissimi? Perché abbiamo finito il pane. Perché abbiamo finito i... Quando abbiamo mangiato i glissimi? Avendo finito il pane. In entrambi i casi, avendo finito il pane, non può stare da sola. Non può stare da sola. È una frase che, avendo finito il pane, punto, non ha senso. Quindi si collega alla seconda come in un rapporto di subordinazione. È una subordinata di primo grado. Questo è ovvio, in quanto non ci sono altre, quindi per forza saranno subordinate di primo grado. Quando abbiamo finito il pane? È esattamente la stessa cosa. Abbiamo mangiato i glissimi quando abbiamo finito il pane. Quando è una congiunzione subordinante di tipo temporale, e quindi avremo una subordinata. Sempre di prima. Ma cosa... Qual è la differenza fra queste due proposizioni? Avendo finito il pane e quando abbiamo finito il pane? Niente, quello che cambia è il modo del predicato. Nel primo caso abbiamo un modo infinito, avendo finito, e nel secondo caso abbiamo un modo finito, abbiamo finito. Quindi, in questo caso, noi chiameremo la forma con il modo infinito una forma implicita, una subordinata implicita. Nel secondo caso, con il modo, con il predicato al modo finito, abbiamo una subordinata di primo grado esplicita. Quindi, definiamo quanto abbiamo appena detto. Quindi, le subordinate esplicite hanno il modo, hanno un verbo con il modo finito. Questo è un'altra parola, una straniera. Hanno il predicato al modo finito. Quali sono i modi finiti? Semplici. Indicativo, congiuntivo, condizionale. Quali sono i modi non finiti o infinito? Sono appunto l'infinito, il participio e il gerundio. Quindi, quando abbiamo una subordinata con il modo, con il predicato al modo finito, abbiamo una subordinata di primo grado, il secondo grado è esplicita. Altrimenti è implicita. Di norma si può cambiare ogni subordinata implicita in una subordinata esplicita e viceversa, a volte leggermente cambiando il significato. Però c'è una cosa da cui fare attenzione. Per poter usare una subordinata di forma implicita, è necessario che il soggetto della subordinata coincida con quello della reggente. Non possiamo trasformarla da implicita a esplicita cambiando il soggetto. L'importante è che il soggetto sia lo stesso. Questa è la regola fondamentale. Altrimenti si commette un errore e poi vedremo, si va a infisciare la comprensibilità della frase. Spero che sia tutto chiaro, nel caso che non sia chiaro, vi prego di farmelo sapere nei consueti modi. Nel frattempo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione di grammatica, che avrà come oggetto i diversi tipi di proposizione subordinata. Grazie, a presto. Grazie.